L'Olbia, sì sì, saranno arrabbiati come saremo arrabbiati noi. L'Olbia è una squadra che gioca un buon calcio, una squadra giovane, come noi, forse non lo siamo qualcosina di più. Ma, insomma, è una partita come tutte le altre, per cui in questo momento di nostra grande difficoltà, ma l'affronteremo nel migliore dei modi, come abbiamo affrontato le ultime tre, da quando siamo veramente in difficoltà di giocatori. Proprio numericamente non ci siamo, siamo sempre sedici. Oggi ho fatto venire cinque, non so se quattro, cinque o sei della Berretti per fare due squadre. Il momento è questo. Io spero di arrivare adesso a questo turno di sosta che ci aspetta e recuperare tutti. Poi, ieri parlavo con Antonio Nicolai e dicevo che quando siamo stati tutti abbiamo fatto delle belle cose, no, perché abbiamo battuto l'Arezzo, abbiamo fatto la partita contro il Piacenza, che secondo me rimane la partita più bella che ha fatto la Lucchese quest'anno. Cioè, vuol dire, ho avuto la possibilità di scegliere alcune o abbiamo vinto 3 a 0. Quando c'è la possibilità di scegliere tra gli uomini abbiamo fatto sempre delle ottime gare. Ora, questo è un momento così e sinceramente non mi aspettavo nemmeno di fare in tre partite così difficili nove punti. Cioè, sei punti, però li abbiamo fatti in merito a questi ragazzi che, ora, mi permetto di ridirlo, che tanto stanno dando a questa maglia, a questi colori e devo dire che la gente se ne accorta, perché vista la manifestazione di affetto dei tifosi vuol dire che la gente ha accolto il segnale che noi nelle difficoltà stiamo dando massimo e stiamo onorando quello che poi sono i colori della Lucchese.